Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FabiJ Ed oggi siamo su The World Hardest Game 2 Siamo su The World Hardest Game 2 Che bello con un gioco impossibile, la cosa più impossibile da dire è il titolo Allora ragazzi, prima cosa, lo so che in teoria non ho finito l'uno di The World Hardest Game Soltanto ragazzi che per arrivare al punto dell'altra volta avrei dovuto rifarmi tutti i livelli Tutti Tutti Quindi siccome non arriverò più al punto di prima e questo è sicuro Faccio il 2 così almeno qualcosa concludo Conoscendo il primo ragazzi non so che cosa posso trovarmi davanti ma più o meno ho un'idea E cos'è sto cosa? In questo notte hanno le palline, nell'altro non era così Sì Che partenza di merda Che bello quando iniziano così No, sì Sì Give up sister Sì sì, allora io, allora zio non sono tua sorella Non so che cosa pensi di me Ma ti stai sbagliando Merda Tanta roba Non so che cazzo ho fatto però porca troia, va bene così Ho capito che non ce la farò mai più rega ma non importa Siamo a livello 3 50 Quanti cazzo di livelli ci sono Ok non avevo letto il 50 effettivamente Era meglio che non lo leggevo però vabbè Come si fa a far sta parte? Ma è impossibile No qualcuno voglia veramente di spiegarmi come si dovrebbe fare sta parte Ah forse così Mortacci tua Allora chiariamoci un secondo le idee Io arrivo lì sopra perché questo lo devo fare per forza Poi vado giù Ma parca puttana Ho già capito Ma ma Aspetta Eh che cazzo Ragazzi sono a livello Che cazzo di 3 A livello 3 è fantastico Ne mancano 47 No No Sì No Ci voglio neanche credere Che sono bloccato Ma al terzo livello Sì Sì cazzo E non è possibile Mezz'ora per arrivare qui ma minchia moglie alla fine Ecco no Sarebbe stato gra Ah devo tornare indietro Io non pensavo dovessi tornare indietro Può arrivare indietro di sta roba credo Cioè tipo è una roba impossibile Sì Sì Calmi regà Sì Madonna l'ansia No 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 Aspettate un attimo Vai Sì Sì Oddio ho perso 10 anni di vita ma va bene Calmi Oddio Non ci Non lo so come ho fatto ma va bene È successo un disastro Cos'è sto schifo Un attimino che mi oriente Madonna che cazzo Ma è più difficile di un compito di matematica E ce ne vuole Aspetta 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 Sì 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 Eccolo Come cazzo torni indietro Eh infatti Adesso Minchia cosa ho fatto Cosa ho fatto Cosa ho fatto Sono morto Ho moro rincoglionito Però qualcosa di decente la stavo facendo No Sì Sì bello Madonna mia Che bordello è regà Non si può fare neanche un metro Vabbè dai ho capito No 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 Sì Bravo Bravo Tua sorella deve morire Il tuo fratello Il tuo cane Il tuo cricetto Se l'hai mai avuto Il pulcino Deve morirti anche l'erba In giordino Madonna Calmi Ok E ce l'ho rifatta Fino a sto punto Cosa è impossibile Come ho fatto prima a sbagliare A Natale giuro che non chiedo niente Ma ti prego fammi fare sta roba Minchia che culo Ragazzi il gioco è sempre bellissimo Io ve lo voglio dire Però non ho capito Perché sono diventato verde Credo che in un formicaio ci sia meno casino Però non ne sono sicuro Continui capire un attimo come potrei finire sto proprio Perché mi sembra impossibile Ma io ce la ci provo ugualmente Tipo adesso Ecco noi fatti Non sono riuscito neanche a prenderne uno Invece sì Invece sì Ok ok Calmi raga Calmi due Due Tuca Tuca Che culo Ok Raga due li ho già presi Cosa è impossibile Ok Sì No Sì Che culo Fermi Raga Li ho presi tutti Come ho fatto No 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 Sì No Porca troia Mi sembrava impossibile che ci stavo riuscendo Infatti non ce la farò mai più Ma devi veramente capire Ma chi è la mente malata che crea ste cose No perché non Che cazzo Ma proprio adesso mi devo Prudere il naso Vaffanculo Cazzo Che culo Ah ma se sto fermo qua non mi becca nessuno Ah ok Vieni da papino Che culo Raga non chiede Cos'è sta roba Ma non è difficile questo Sembra Sembra abbastanza semplice Poi le ultime parole famose Come cazzo fa Eh sì Salve Perfetto Dove tipo partire Quando loro non ci sono Tipo adesso Sì Eh ma è impossibile Sì Sì Ok Calmi raga Ce l'ho fatta Non so Non fate domande Si può fare Non è impossibile È impossibile Che sta musica mi sta letteralmente Tartassando le biglie Non so se è per voi la stessa cosa Che roba che c'avevo da giocare Proprio sto schifo Dovevo giocare sto schifo Ce ne avevo tante di cose Invece no L'idea geniale di giocare a sta merda Succa Vai bello Vai bello Vai bello Sì Mi sono fermato però Come cazzo ho vinto Ragazzi Nessuno si faccia domande Nessuno Non ho capito neanche come ho fatto Per arrivare solo di qua Ma porca puttana No Allora che cazzo Allora È lì È lì il traguardo Non è di filo Porca di quella Devo farmi tutto No ma state scherzate Ma serio Cioè mi devo fare tutto il giro Per fare due metri No non è possibile Ok ok Eccolo No eccolo una sega Vogliamo gli darci una calmata Perché è impossibile Ma come si fa a fare sto pezzo Sì Sì No No Porca puttolandia Non è possibile Ma come cazzo si ve Certo 250 morti In un livello quasi Cazzo manca Non ci voglio credere Ma baffan Capiamoci un attimo Manca Manca un cazzo E muoio Che co Perché Cosa Com'è che adesso ha funzionato Prima no Ci ho messo 40 minuti Non ci posso credere Sono arrivato dopo 276 morti Fino a questo punto Che è una cosa impossibile E ho capito Che si va di difficile In difficile Ma cribio Che cos'è sta roba Fatemi capire Devo No No Sì Sì No Sì Porca traia Adesso tutto Tutto Non me ne frega niente Caso No 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 Ti prego Sì 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 Non me ne frega un cazzo Nel livello So solo che sto Lasciando l'anima In sto gioco di merda Sto sudando Scusatemi se No Ma che cazzo è sta Non riesco a prendere il primo Ho capito Che devo fare Eh vabbè ci metto un pochettino Regà E continuerò a metterci un pochettino Sì Ok Regà non chiedetemi come ho fatto Non lo so Calmi che prova a fare Un'operazione di ricognizione Cosa difficile Adesso Non l'ho neanche preso Caladra Guarda che Eh va bene Mi fai fare un Stanchezza nel corpo Negli occhi Nel cervello Nella pazienza In tante cose Lo devo rifare Cosa che non ci riuscirò Ma ci voglio provare Quanto precaria la situazione Ci riprovo Voglio le redini del mondo Adesso Devo fare tipo così Porca troia Calmi regà Sono alla fine Sono alla fine Sono così da mezz'ora Perché ho paura di proseguire Allora 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 Calmiamoci un attimo Facciamo un bel respiro Tutti quanti Morirò così Mentre faccio avanti niente Lo so già Però Ok 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 Adesso Adesso Grazie Dio Grazie Moving Diagonale Non c'è scritto diagonali Ma non importa Dio mio Santissimo Non avete Siamo a livello 10 452 morti Non Boh Mio Dio Ma che cazzo Cioè ma Scusatemi Teorizzare un Qualcosa di Einstein È più facile Cioè ma Cos'è? Cioè ma No 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 Che cosa si fa? Cos'è star? Oddio Camminato Sì certo Ho capito Sono fermo Ma vi rendete conto Che per prenderne un Non si riesce Nonca uscire Cioè è una cosa Pazzesca Non si riesce Uno 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 va bene Uno va bene Mi ritiro in salute spiritiche Per il resto della mia vita Non ne voglio più sapere Va bene ragazzi Per adesso concludo qua Perché non vorrei finire A capodanno Perché più o meno siamo lì Vedrò di continuarlo Nel prossimo episodio Se riesco ad arrivare Fino qua Cosa che vedo difficile Ma Mi ci metterò di impegno Preghiamo in cinese Che qualcosa si riesca a fare Perché Perché è assurdo Comunque ragazzi Come al solito Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Anche la pagina di facebook E come ogni video Trovatela nella descrizione Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi Noi ci rivediamo Nel prossimo video Bella ragazzi